ariete ricevete un buon supporto dall'angolazione positiva di marte che infonde più passione nelle questioni che dovete affrontare una energia produttiva che dà i suoi frutti siate comunque prudenti nel vostro agire per evitare di veder compromessi gli sforzi compiuti toro un cielo astrale armonico vi rende più ricettivi alle opportunità e più combattivi è il momento giusto per muoversi e cercare soluzioni ai problemi o lanciarvi in progetti ambiziosi troverete molte porte aperte la comunicazione scorrevole e l'amore vincente gemelli la fase che state attraversando richiede un impegno notevole siete di fronte a molteplici situazioni da assestare o cambiare risolta una questione ne nascono altre e non trovate tregua il vostro spirito vivace saprà far fronte a tutto con estrema abilità cancro avete dalla vostra parte molti aspetti astrali benefici che consentono di ricevere conferme nelle faccende di cuore il risorgere della vostra autostima e di un fermento intellettivo trasforma le vostre risorse e strumenti produttivi che permettono conquiste umane e lavorative leone urano in buon aspetto vi rende intraprendenti e desiderosi di cambiare la banalità della routine vi incita a trovare soluzioni originali a vecchi problemi in particolare siete al momento sostenuti anche da un Marte armonico che accresce la vostra forza con risultati eccellenti vergine state vivendo un periodo di rallentamento nei programmi stabiliti probabilmente vari disagi producono giornate un po ostacolate e nervose che vi affaticano il settore sentimentale non conforta siete vittime di conflitti o senso di solitudine bilancia rafforzati nelle vostre convinzioni vi mostrate più decisi ad attuare quei propositi che servono a farvi valere e prendere posizione la vostra natura diplomatica e indecisa al momento si è presa una pausa per lasciar posto ad una nuova persona che sorprenderà scorpione approfittate della favorevole fase astrale per mettere a punto i vostri progetti e dare forma concreta a qualche decisione l'amore vi sorride le relazioni in genere crescono in sintonia e vi colmano di conferme personali e di carattere professionale sagittario siete sollecitati da una forma di energia interiore che può trasformarsi in una sorta di ansia nervosa che vi aliena i rapporti con chi vi circonda e con chi amate un sottile malcontento è la nota dominante delle giornate lasciate andare le forze represse con lo sport capricorno giornata un po critica nella quale mettete in discussione tutto ciò che vi viene proposto in sostanza la vostra posizione è favorita e ricevete consensi ma una leggera inquietudine intima spesso risveglia alcuni interrogativi ai quali dovete dare risposte acquario combattuti tra antiche radici e nuove aspirazioni siete in bilico su due strade diverse che dovete valutare seguendo l'istinto e la ragione un mix talvolta non semplice da attuare ma che vi innalzerà su mete fuori dall'ordinario buona energia pesci un accumulo planetario nel vostro segno costituisce una sfida che vi vuole da un lato esaltati ed entusiasti dall'altro sovraccarichi con possibili errori di valutazione in ogni caso il momento è di alta intensità e sta a voi saper catturare la giusta occasione buone stelle